Preghiera della Sera a Maria Santissima Nell'affanno e nella tristezza, dolce Vergine, tu non mi abbandoni mai. Questa è davvero una preghiera molto particolare, bella come tutte le preghiere e che la nostra Madonna apprezzerà certamente. Ci rivolgiamo a Maria Santissima questa volta affinché lei possa comprendere che cerchiamo la forza per andare avanti in un momento di grande tristezza e di affanno nella nostra vita. Alla sera recitiamo questa meravigliosa preghiera affinché lei possa essere sempre al nostro fianco in questi terribili momenti e possa sostenerci, non ci abbandoni mai. Spesso, purtroppo, pensiamo di essere abbandonati ma non è sempre così. Preghiamo e chiediamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine, si fa tardi, tutto si addormenta sulla terra, è l'ora del riposo. Non abbandonarmi, metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di qua giù. L'anima mia è stanca di affagni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina. Metti la tua mano sulla mia fronte. Arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. Perché domani, il tuo povero figlio, si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre ridica al suo Dio un amore eterno. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.